Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di Per Sempre News. Iniziamo con il conflitto israeliano. Secondo il sito del quotidiano Yediot Aronot, sarebbero almeno tre i ministri israeliani che stanno considerando la possibilità di rassegnare le dimissioni per obbligare il premier Netanyahu ad assumersi pubblicamente le proprie responsabilità in seguito all'attacco a sorpresa sferrato da Hamas il 7 ottobre. Inoltre il sito ha anche pubblicato un sondaggio di opinione secondo cui il 75% degli israeliani addossano a Netanyahu la responsabilità della totale sorpresa del paese per l'attacco di Hamas. Oggi il giornale ha anche affermato che ci sono tensioni fra Netanyahu e l'esercito. Il ministro degli esteri italiani ha commentato le notizie del New York Times su una possibile liberazione da parte di Hamas di circa 50 cittadini con doppia nazionalità. «Questa è una voce di stampa», dice il ministro, «non abbiamo ancora nessuna notizia precisa in merito. Stiamo lavorando per quello, la nostra ambasciata a Tel Aviv, il nostro consolato a Gerusalemme, la nostra ambasciata al Cairo e la nostra unità di crisi, tutti siamo fortemente impegnati per raggiungere l'obiettivo di liberare gli ostaggi con l'interlocuzione che continuiamo ad avere coi diversi paesi». Passiamo ora al guasto elettrico a Roma che ha fatto sospendere la circolazione tra Termini e Prenestina. «Le cause del guasto, che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea, sono in corso di accertamento», ha spiegato in una nota RFI, sottolineando che «le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea». A causa del guasto, si sono verificate ripercussioni lungo l'intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia verso la capitale, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni. Chiudiamo con la Serie A. L'Assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta di Dazzone e Sky con 17 voti a favore. I club hanno quindi accettato l'offerta da 900 milioni a stagione a partire dal 2024-25 fino al 2028-29. Decade dunque per ora l'ipotesi del canale di Lega. Tra le voci contrarie all'intesa raggiunta c'è quella di Aurelio De Laurentiis, è una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà. Sky e Dazzone non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano. Queste scelte non implementeranno mai il sistema del calcio italiano. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di PerSempreNews. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.